hanno preso la scorciatoia sono mica triadisti loro andiamo andiamo adesso sono pieno me ne prendo esatto bravo due volte che vado io c'è sempre il suorcio che portano ospedale per quello lo so ma va meno male che ce li abbiamo esatto io caro avete buttato per terra brutti cani bastardi non c'ho le mani sporche me la metti in bocca che c'ho le mani sporche via 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 davanti tu hai chiuso? no no anche tu li hai presi non andava più perché ti avevo preso è chiuso bene guarda la banana sweet sweet è chiuso si 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 se mi canfite assi con il calcio oh no no